Quello tra Giorgia Meloni ed Elislein era indubbiamente il più atteso tra gli incontri del Premier con i leader dell'opposizione sul tema delle riforme istituzionali. Il segretario del PD ha chiarito che le riforme non sono una priorità, lo sono lavoro, sanità, PNRR, clima, giovani e casa, ribadito il no a ridimensionare il ruolo del Presidente della Repubblica. La Meloni ha definito l'incontro aperto, franco e collaborativo e che ci ha aiutato ad avere le idee più chiare. Dopo i prossimi incontri con Regioni e Sindaci formuleremo la nostra proposta. Grazie a tutti.